Una serata all'insegna della vicinanza, dell'arte e della solidarietà. Avrà questo triplice significato l'evento organizzato giovedì sera in Duomo dall'Ulse 9 Scaliger assieme alla Gasperi Foundation. Si parte con la musica, si parte con l'appassionata orchestra da camera nata attorno alle attività di Gasperi Foundation. Le finalità della nostra fondazione che supporta questa serata sono cultura, giovani e beneficenza. In questo caso c'è questa opportunità di rappresentare attraverso questi giovani musicisti. L'orchestra appassionata, che è un'orchestra di giovani professionisti provenienti da tutta Italia, fondata e creata dalla Gasperi Foundation. Si esibiranno in repertorio classico e avremo la fortuna di sentire grandissime pagine come la piccola serenata notturna di Mozart e il concerto La Follia di Geminiani. Quindi pagine molto note al grande pubblico che proprio per questo non è facilissimo sentire di questi tempi. La serata proseguirà con l'asta di beneficenza dei presepi realizzati dai ragazzi diversamente abili dei centri diurni e residenziali dell'Ulse 9, il cui ricavato servirà a sostenere nuovi progetti di solidarietà. Un evento nato nell'ambito della giornata mondiale del malato per dimostrare che la cultura della vicinanza è fatta anche di intrattenimento, musica, comunione. L'ammalato ha sempre bisogno di grande umanità. Se poi è un ammalato che ha anche fede, allora l'aiuto della fede lo potenzia interiormente.